Gli antichi sovrani di Babilonia conoscevano molto bene questi giardini di origine sconosciuta. Babilonia risale al III millennio a.C. e fu sede di successivi potenti impieghi sottogovernanti famosi come Amurabi e Nabucco Sondor, in quanto capitale dell'impero neobabilonese, è la testimonianza più eccezionale di questa cultura a suo apice e rappresenta l'espressione della creatività di questa società durante questa fase altamente produttiva della creazione architettonica e urbana. Begoso o Begosto, astronomo e astrologo vissuto nel III secolo a.C. ha narrato di Nabucco Sondor e Amitide. Successivamente, molti autori antichi greci hanno continuato a fornire descrizioni scritte di questa antica meraviglia, a volte citando il lavoro di Begoso e altre volte parafrasando altre fonti antiche. Come erano fatti questi giardini di Babilonia? Avevano la forma di un quadrante regolare che era composto da un corridoio centrale circondato da bugamassicce. Fu creato un vero e proprio orto botanico in cui la vegetazione era composta non solo da alberi e piante autoctone, ma anche da alberature importate fino a Babilonia, da tutte le parti del mondo. La prosperità dei giardini dipendeva da un ingegnoso ed efficiente sistema di irrigazione ottenuto sfruttando l'acqua delle ufrate. Questa veniva sollevata fino all'ultima terrazza per mezzo di una catena di secchi applicata alla grande gota, a gradine di manovino, azionato da schiavi. Da lì l'acqua scendendo formava uscelli e cascatelle che correvano lunghi i giardini mantenendo il suolo umido. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.